eccomi qua sono contentissimo di avere un pool di amici e di professionisti in quali sono queste persone molto molto professionale in gamba e sono molto contento di partire con questa cosa che sarà senz'altro una cosa direi stellare andrà molto bene sarà una bella partenza complimenti a tutti amaste onorato di essere qua sono domizio è un piacere poter condividere le nostre conoscenze comune con tutti voi e speriamo di avervi presto ospiti per contribuire anche a scrivere una nuova pagina di storia grazie vado io sono nicoletta e per me la parola magica è connessione e il poter donare e contribuire quindi è bellissimo essere qui con queste persone che considero connesse qualcosa che va oltre e quindi che credo che la condivisione generi abbondanza che la condivisione generi la possibilità di trasformare di essere alchemici nelle cose che si fa e quindi la nostra intenzione è proprio quella trasformativa e donarti degli strumenti concreti che possano farti fare quel passo oltre nella connessione con te namaste sono barbara e mi sento molto onorata di partecipare a questo insomma questo progetto che permetterà sia noi che agli altri di crescere sempre più uniti e sempre più in armonia grazie io sono vince buongiorno a tutti sono contento anche di essere qui con voi e spero di catturarvi tutti con con i pianeti e portarli sul percorso di ognuno di noi perché attraverso la conoscenza di noi stessi possiamo dare tantissimo al nostro intorno quindi qui tutti insieme sicuramente possiamo dare una mano per stare meglio e per vivere meglio in questo momento molto molto importante della nostra esistenza grazie alla ringrazio tutti di essere qua voi noi in questa combinazione in questo caso degli incontri che sottolinea ancora una volta come la conoscenza è assolutamente trasversale e una grazie sono adamo felicissimo di appartenere a questa squadra dove trovo e sento bellissime vibrazioni namaste san giovanni è un periodo storico molto interessante e la cosa interessante è che noi andiamo a vedere le ere antiche come ci insegnano oggi in una proiezione verso il futuro ma con l'obiettivo di vivere qui e ora il presente nel migliore dei modi e vedremo proprio come lo impareremo a fare grazie a questa condivisione di conoscenze antiche e contemporanee grazie a tutti di questa opportunità grazie 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 grazie